L'importanza di aver vissuto oggi nuovamente l'arrivo di treni ad Andri è mitigata dal pensiero di quello che sarà l'immediato futuro. Il progetto di internamento è ad un punto di svolta. Il 31 dicembre prossimo infatti scadrà il termine per ferro tramviaria per chiudere le opere di cantiere. In caso di non rispetto dei tempi il rischio è quello di perdere il maxi finanziamento europeo da 180 milioni di euro, un rischio che è emerso chiaro nella delibera di giunta comunale approvata nei giorni scorsi e che concede il via libera alla chiusura degli attraversamenti di via Barletta e via Vecchia Barletta, un progetto proposto dall'appaltatore dei lavori e che prevederà anche un ridimensionamento del mercato ortofrutticolo che dovrà coabitare per un po' con il cantiere in attesa della nuova struttura che dovrebbe sorgere nei prossimi mesi nella zona PIP. Il completamento rispetto al quale siamo sempre stati consapevoli di quanto mastodontica fosse l'opera e di quanto stretti fossero i tempi, motivo per cui noi come amministrazione abbiamo davvero serrato il più possibile le fila per evitare che ci fossero delle cose a noi imputabili, ma qui non è una questione di gara, qui la volontà è quella di risolvere le problematiche che ovviamente per un grande progetto come quello dell'interamento si possono verificare. Nel caso specifico abbiamo deciso di deliberare su questa mobilità alternativa e provvisoria nella zona di via Barletta perché ormai siamo prossimi all'avvio delle attività della nuova area mercatale in via della Costituzione. Ma nell'emore che questo lavoro venga effettuato e venga fatto lo spostamento abbiamo anche convenuto di consentire l'accesso su una parte dell'attuale mercato ortofrutticolo di modo che i lavori possano andare in maniera molto più spedita. Lo ricordiamo anche che parte dei rallentamenti sono dovuti anche alla tipologia di interventi nel sottosuolo con una roccia molto 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 dura che ovviamente ha comportato anche un maggior dispendio in termini di tempo e un maggior impiego di mezzi. Adesso noi chiediamo ulteriormente di rafforzare tutto questo per fare in modo che il cronoprogramma possa essere rispettato anche perché lo ricordiamo ci sono finanziamenti europei rispetto ai quali non ci si può assolutamente permettere che vada indietro un solo centesimo ma ancora di più che non rispettando i termini l'opera rimanga incompiuta. Noi questo non lo possiamo consentire. Come sindaco di Andria è preoccupata che quei soldi possano tornare indietro? Io sono preoccupata rispetto ad ogni opera pubblica. L'avrete notato che ho sempre un approccio molto molto prudente anche quando si inaugurano le opere, quando si inaugurano i cantieri. Con quest'opera in particolare io ho sempre avuto una prudenza massima ancora di più ma devo dare atto che da quando i lavori sono cominciati non c'è mai stata una sola giornata di interruzione.